Quest'anno come comunità Papa Giovanni del III per il settimo anno di fila scendiamo nelle piazze d'Italia con questa iniziativa Aggiungi un pastatavola. Quel morto di fame di mio fratello sono proprio i nostri fratelli che vivono con noi, gli immigrati, gli estracomunitari, le persone che hanno un'altra religione, ma anche i bambini disabili, i bambini che accogliamo ogni giorno, gli anziani, gli adulti, i senza fissa dimora. Noi con questa iniziativa cerchiamo di far riflettere le persone sul problema della fame del mondo, sulla malnutrizione, sullo scarto alimentare. Il simbolo dell'iniziativa è un pacco di pasta che noi offriamo in corrispondenza di un'offerta e la pasta che avanza e che la gente ci ridona sarà proprio data il giorno dopo, diventerà proprio un pane spezzato proprio per questi fratelli che ne hanno bisogno. Quindi le daremo alle Caritas, alle famiglie dei fratelli musulmani che ne avranno bisogno e tutto quanto. In quale piazza potremo trovarvi? Allora il 18 e 19 settembre saremo sicuramente davanti alla Basilica del Santo a Padova. Il 26 e 27 settembre saremo qua a Cittadella, saremo il 27 settembre a Padova in piazza Garivaldi davanti a Louis Vuitton, saremo a Campo San Piero e in tantissime altre città d'Italia.